Ma guarda, il nostro ospite d'onore! Sono contenta che tu sia riuscito a venire, Aladdin! Che cosa hai fatto alla principessa Jasmine e al sultano? Li ho solo tolti di mezzo. Ora che comando io ad Agraba non ho più alcun bisogno dei loro servici. E quando mio fratello Jafar tornerà dal regno degli inferi, non avrò più bisogno neanche di te! Scusa tanto, ma ho capito bene. Oppure mi sono distratto? Perché il Jafar che conosco io è morto e sepolto. Se n'è andato! Non è più tra i viventi! Mi sono spiegato? Bene, ma che bella sorpresa! Il famoso genio della lampada! Ho sentito parlare molto di te! Davvero? Senti, dolcezza, mi conoscono tutti in città! Ho fatto un po' di teatro qui circa che saranno diecimila anni fa e il pubblico ancora mi adora! Ho atteso con trepidazione questo momento! Un'ammiratrice! Vorrei un autografo, immagino! A pensarci meglio? Forse no! Questo farà male! Genio! Genio! Che cosa gli hai fatto? Abbi pazienza! Arriverà anche la porta! Guardie, portate questo essere insignificante nelle prigioni! Vi raggiungo favore di occuparmi di me, personalmente! Senti, Abbu! Devi salvare Adadin prima che Nazira metta le sue orribili grinfie su di lui! Questo posto è pieno di trappole e insidie nascoste! Perciò stai attento! Abbu! Come sono felice di vederti! Trova la chiave per aprire queste catene! Deve essere qui intorno! Abbu! Ho paura del buio! Portami tre candele e ti darò una pozione magica che farà dormire quella guardia per ore e ore! Fattene! Non vedi che devo badare a questo prigioniero! Ho paura del buio! Hino! things份! Torniamo! Hino! Un poise! る varsia! non la sc Sache non la scata da fronte! chezza di provano l'altro e alplanamento che nell'initiare la concienza! No! 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 by� required! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!